Ciao Paolo, ciao Gerson, un saluto a tutti gli amici che ci stanno seguendo e soprattutto ben ritrovati, ma un saluto mio particolare anche a Renzo Balbo che non dico che ci ha abbandonati, è passato a miglior vita nel senso che è andato a stare meglio e quindi lo saluto. Vedo anche dove si sta toccando ma lo sai, io con te scherzo sempre. Ciao Renzo. Allora Paolo, ciao Gerson, vi ho già salutati voi due. Mi avete proposto questa scaletta di interventi, cominciamo con Impere e la Baby Maratona alle ore 14 del sabato. Avete visto prima che non ho parlato di nessuna perturbazione, solo il disturbo delle nuvole basse, un disturbo un po' generalizzato a tutta l'Italia, io direi almeno fino a tutto lunedì o martedì, quindi questo weekend sportivo è compreso in questo tipo di tempo. Anche Verona, ovviamente Verona e anche Siena poi per il giorno dopo alle 15 della domenica vedo che c'è Siena, Juventus e a Verona il sabato, Chievo, Sampdoria, lì non ci arriveranno le nuvole basse, avranno le nuvole del fiume, uno dell'Adige e l'altra vicino alla Val d'Arno, quindi ci saranno delle nebbie, delle foschie piuttosto dense, delle brume, chiamatele un po' come volete, ma nessuna precipitazione, anche la ventilazione sarà debole o moderata e per quanto riguarda la temperatura, su valori piuttosto umidi, leggermente superiore alla norma, questo vale per tutta l'Italia, perché non ci sono perturbazioni, siamo sotto una campana anticiclonica molto diffusa, quella delle Azzore con massa d'aria un po' umida, quindi l'unico problema, almeno fino a tutto lunedì, per tutti gli incontri sportivi o le manifestazioni sarà di cielo poco nuvoloso o nuvoloso, foschie, temperature gradevoli, vento debole inferiore ai 30 km all'ora, dove ci sarà il mare, il mare sarà poco mosso, la visibilità intorno 10-12 km, localmente 5 nelle ore notturne, se qualche manifestazione si svolgerà di notte. Io non ho nient'altro da aggiungere, vi ripasso la linea, ringrazio ancora tutti e arrivederci a presto.